Col buon senso, col rispetto dei limiti e delle regole, ribadiamo quello che stiamo dicendo da ormai due anni, si accoglie chi scappa davvero dalla guerra, ma si espellono le decine e migliaia di clandestini che stiamo mantenendo a spese degli italiani negli alberghi di Mezza Italia. Questi vanno rispediti a casa loro domani mattina.